Prende il via oggi al Serravalle Golf Club di Serravalle Scrivia, la SEM Cup 2017, Louisiana coppie e nove buche, ideata da Marco Semino, consulente di marketing per grandi aziende, nonché grande personaggio della zona. Si tratta di un circuito a 16 gare che toccherà i più prestigiosi golf club della zona e che vedrà il suo culmine il 6 ottobre con la finalissima e le premiazioni. La SEM Cup, nata per caso nel 2009 dopo una sfida tra amici che si era conclusa con un terzo tempo in un ristorante, negli anni ha visto golfisti di ogni parte dell'Alta Italia, nonché personaggi VIP del calibro di Massimo Mauro, Daniele Massaro, Mauro Tassotti, Attilio Lombardi e Valerio Staffelli, che non hanno saputo resistere al richiamo del poliedrico Semino. La formula è quella della Louisiana due giocatori, ogni gara si disputerà la sera. Alla fine sarà premiato non il più bravo, ma chi, a parità di numero di presenze, avrà ottenuto il miglior punteggio, una formula che vuole raccogliere quanti più fondi possibili da destinare in beneficenza. Quest'anno ricavato andrà alle carmelitane teresiane di Carpeneto e all'associazione Enrico Cucchi di Tortona. Bisogna sfatare il detto comune che il golf è uno sport per ricchi, ha commentato Marco Semino. Un anno sul green costa poco più dell'equivalente periodo in una palestra. Tra i golf club, che toccherà la Sem Cup, anche Villa Carolina Capriata d'Orba, che si animerà il 19 maggio e il 15 settembre. In otto anni di vita la Carmes è cresciuta di edizione in edizione, proprio grazie alla sua formula, ma anche grazie alla capacità di Semino di riuscire a catalizzare l'attenzione sulle sue iniziative. Il golf può essere praticato dappertutto. È uno sport all'aria aperta che ti mette a confronto con la natura, ha commentato il promotore della Sem Cup. D'altronde lui di golf se ne intende. Lo pratica dal 1990. Ha giocato un po' ovunque e non ha mai smesso, neppure alla mattina del giorno del suo matrimonio, quando ci mancava poco che in chiesa si presentasse in caddy e con le mazze da golf. Grazie.